Abbiamo qui con noi Stefano Loconte, fondatore e managing partner della Loconte Partners. La rete degli avvocati è per definizione una delle più vaste, insieme a forse ai commercialisti, rete di consulenti delle famiglie e degli investitori italiani. Quindi forse sono nella condizione migliore. Tra l'altro non ci sono quelle asimmetrie informative che con altri intermediari possono esservi nella capacità di consigliare al meglio il cliente, nel senso che voi siete suoi consulenti. Quindi siete nella condizione migliore di identificare quali sono i bisogni, quali sono le necessità che questo cliente ha e nel seguirne le evoluzioni a tutto campo, sia nel quanto riguarda gli investimenti che per quanto riguarda i passaggi generazionali, problematiche legate all'azienda, alla famiglia. In qualche misura è una condizione privilegiata che avete in questo business, o no, l'avvocato Loconte? Direi assolutamente sì, e per fortuna. Nel senso che possiamo tranquillamente dire che noi avvocati o professionisti che si occupano degli aspetti legali e fiscali del well planning siamo necessari in questa fase. E questo per diversi ordini di ragione. Magari, non sappiamo. Perché dicevo, mai come in questo momento storico questo è importante. Storicamente la ricchezza degli italiani, parliamo dell'Italia, è sempre stata allocata, come tutti sanno perfettamente, sulle persone fisiche. Questo perché? Perché la tassazione degli strumenti finanziari sulla persone fisiche è sempre stata molto bassa. Ricordiamoci che addirittura era solo il 12,50%. Grazie. Grazie.